Il 5G, che vuol dire quinta generazione, non è solo, a differenza delle altre reti, una rete più performante rispetto alla precedente, ma cambia i paradigmi perché, a differenza delle altre generazioni, sopra un'infrastruttura fisica unica abbiamo tante reti virtuali, quindi, ognuna di queste reti virtuali ha delle caratteristiche peculiari che l'operatore deve orchestrare opportunamente per dare il servizio che serve al cliente finale, sia esso business o consumer, quindi azienda o cliente privato, in maniera da garantire quello che si aspetta, automotive piuttosto che metering, piuttosto che prestazioni della clientela normale. Perché non fa male? Allora, intanto i limiti che abbiamo valgono per qualsiasi tecnologia, quindi se il limite arriva qua, che io ce lo riempa col 2G, col 3G, col 4G o col 5G, il limite di radiazione è sempre lo stesso. Ma qual è il fatto? Intanto che questo limite vorrei far presente, e facendo delle proporzioni che sono realistiche e sono proporzionali alla realtà dei voltmetro, lo faccio coi chili. È stato dimostrato che sollevare per 8 ore di seguito 25 chili può far male alla schiena. A livello europeo hanno deciso di essere cautelativi e hanno messo il limite a mezzo chilo, perché hanno ritenuto che portarsi una bottiglietta d'acqua da mezzo chilo per 8 ore non fa male, anzi, c'è la bottiglietta d'acqua che serve. A livello italiano, per essere ancora più cautelativi, abbiamo pensato di dire no, guarda, sai che ti dico il limite lo metto a 5 grammi. Mettendolo a 5 grammi non ho fatto il bene né del paese né mio personale come cliente, per due motivi. Intanto, perché abbassarlo troppo, se non serve, fa sì che io non posso dare neanche la bottiglietta d'acqua alle mie figlie per andare a scuola. Dall'altra parte, questo problema di avere un limite così basso fa sì che io sia costretta a mettere più siti, che ha un costo, ma non è solo il problema dell'operatore che deve fare più siti, ma il problema di cui ho paura è la mia salute. Io ho il telefono accanto e il telefono, se io ce l'ho accanto a me, per farlo irradiare meno, deve strillare poco e per strillare poco l'antenna deve essere vicina, perché se io ho sempre lo stesso telefonino, ce l'ho qui e la mia antenna è molto lontana, così non la vedo e sto tranquilla, in realtà il mio telefonino per parlare con l'antenna strilla forte. Quindi, alla fine a me cosa conviene? Conviene avere dei limiti che ha tutta Europa, che non si è muore morto nessuno, avere meno siti da fare, così l'operatore riesce a coprirmi più velocemente le mie ferrovie, le mie autostrade, la mia città e in più ho meno problemi. In più, col 5G dicono, mamma mia il 5G ha bisogno di tantissime antenne. Non è proprio così, perché parliamo di due cose diverse. È come dire, io finora avevo solo dei lampadari e qualsiasi cosa mi servisse, accendo la luce, illumino, aggiorno tutto quanto. Col 5G, invece, faccio qualcosa di più intelligente. Uso delle antenne direttive e faccio sì che io accendo la luce solo quando e dove mi serve. Mi serve sulla scrivania? Accendo sulla scrivania quando mi serve. Sono tre scrivanie? Accendo tre lampadine. Mi serve per tutti? Accendo il lampadario. Quindi non è che io ho più antenne e quindi sto andando oltre il limite. Ripeto, il limite è sempre questo, che lo riempio 2G, 3G, 4G, 5G, 2G più 3G più 4G, comunque non mi posso spostare da qui. Intanto questo limite è molto molto più basso del limite a livello europeo e non è un bene. In più, col 5G, se invece di fare un lampadario faccio tre lampadine che accendo quando voglio, in realtà sto risparmiando. A livello internazionale è stato riconosciuto che l'utilizzo cooperativo dei sistemi intelligenti del mondo automotive ridurrebbe immediatamente il 13% degli incidenti stradali. In più, l'FCC americana, tra fine anno 2020 e inizio anno 2021, ha decretato che l'utilizzo anche della banda addirittura non licenziata sia riservato solo al protocollo cellulare e non più ai protocolli vecchi del Wi-Fi, proprio per aumentare la sicurezza. In più, per aumentare la sicurezza ho bisogno di due cose. Uno dei limiti, come abbiamo detto, opportuni per poter sviluppare la mia rete è dare il servizio. Dall'altra parte, che i device, quindi i telefonini piuttosto che i device che dialogano tra macchine, siano in grado di essere gestiti da una rete performante come la rete 5G o 4G e quindi bisogna ammodernare i device. In particolare, le machine to machine 2G only sono oggi a livello Italia, fatto 100% di machine to machine, purtroppo tra l'80 e il 90% a seconda delle reti degli operatori e se non l'andiamo ad ammodernare, anche se avessimo un 5G così immediatamente, subito, avremmo purtroppo un parco macchine, che siano esse automotive, contatori del gas, che è tutto il mondo che ci circonda, troppo alto, che fa sì che io sarei in pericolo non per il 5G, ma per quello che non è 5G, perché è come se io avessi una strada iperperformante, con macchine iperperformanti, ma dovessi dire questa corsia la dedico alle 500, le 500 non riescono a captare i segnali e quindi anche se io ho tutto pronto e tutto a posto, se la 500 mi sbanda, se la 500 mi invade il campo piuttosto che mi sta girando in curva, io purtroppo non riesco a gestirla perché non riesco a dialogarci.